Buonasera signore e signori, dobbiamo presentare questa sera un programma inedito, un po' particolare, che è partito da un'idea di Cristina Ariagno e di Giulio Camarga, cioè di unire pezzi classici, eseguiti classicamente, con pezzi sempre classici, però eseguiti con dei musici di jazz, con delle improvvisazioni di seguito. Allora questo, oltre ad essere un piacevole concetto perché il programma è molto carino, sarà anche un esperimento che se vi piacerà, se vedremo che vi piace, ripeteremo poi nel tempo, nei prossimi mesi. Allora, questa sera io vi voglio presentare innanzitutto una pianista straordinaria che suona e fa concerti di musica classica, che è Cristina Ariagno. E la accompagnano il trio di Giulio Camarga con Gian Paolo Petrini e la batteria. Massimo Camarga alla chitarra, alla chitarra elettrica, al basso elettrico. E Giulio Camarga alla chitarra. Il programma si struttura in una prima parte di una quarantina di minuti, poi ci sarà un bellissimo intervallo di 10 minuti, poi una seconda parte sempre di 40 minuti. Buon divertimento, buona sera. Grazie. 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 Grazie.